Dopo due giorni consecutivi senza tamponi positivi in Irpinia, purtroppo ieri sera con il bollettino dell'Asle è stato comunicato che su 159 tamponi analizzati dall'azienda Moscati di Avellino sono risultati positivi al Covid-19 7 tamponi, di cui tre nel comune di Avellino, dove ad oggi il numero dei contagiati sale a 34, di cui uno residente a Sumonte e domiciliato nel capoluogo di provincia, uno nel comune di Monteforte e Pino, che raggiunge 5 casi in totale e rispettivamente un caso di contagiato nei comuni di Ospedaletto, Quadrille e Serino. Si attende la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità. L'azienda sanitaria locale nel frattempo ha in corso l'indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi. I comuni interessati da almeno un caso di positività al Covid-19 sono ad oggi 64, con un totale complessivo di contagiati in Irpinia pari a 430 casi. Purtroppo, sempre ieri, si è registrata una nuova vittima del coronavirus e deceduta nel pomeriggio presso il Covid Hospital dell'azienda ospedaliera Moscati, uno a novantenne di Ariano e Irpino. L'anziana, affetta da Covid-19, era ricoverata presso la città ospedaliera dal 16 marzo scorso. La città del Tricolle piange purtroppo un'altra vittima, la ventitresima, di cui un decesso di una persona originaria di Greci. Mentre in Irpinia purtroppo le vittime sono 50, è da dire che fortunatamente sale il numero dei guariti.